Io ho imparato a giocare a scacchi quando avevo cinque anni, in un piccolo paesino vicino a Dresda, con mio zio, Heinz. Tu sai giocare veramente a scacchi? Io in realtà so giocare benissimo a Dama e mentre lui gioca a scacchi io faccio delle mostre della Dama, così. Vince lui a scacchi, ma a Dama vinco io. Un bigioco, la scaccama si chiama, scaccama. Caffè per Dresda. Ho fatto delle grandi partite a scacchi insieme a Buzz Spencer quando stavamo in Colombia. Il regista si ammalò e siamo stati un mese fermi. Lo facevamo nottate giocando a scacchi, Buzz Spencer ed io. E giocavamo così tanto, io non riuscivo più a dormire perché lo scacchio ti stimola il cervello. E poi giocavo sempre, insomma, sempre giocato a scacchi. Grazie.